Giorgia Andreuzza, candidata per la Lega alla Camera dei Deputati, e Raffaele Speranzon per Fratelli d'Italia al Senato, si presentano a Sant'Una di Piave. A due settimane dal voto, il centrodestra chiede agli elettori un mandato ampio che garantisca al Governo una maggioranza forte. Poi abbiamo, per quanto riguarda la Lega, sicuramente il tema dell'autonomia, che è fondamentale. Si trova nel programma del centrodestra e sarà uno dei punti che, ovviamente, avendo una maggioranza determinante, riusciremo a portare a casa. Fratelli d'Italia, all'opposizione per tutta l'ultima legislatura, marca le differenze di programma rispetto al Governo tecnico di Mario Draghi. Cambieranno moltissime cose se pensiamo all'immigrazione, alla scuola, a sanità, anche, ovviamente, le dinamiche dell'economia e della fiscalità. Andreuzza rivendica il radicamento al territorio della Lega in Veneto e nel veneziano in particolare. A noi, fino all'ultimo, faremo la nostra corsa. Abbiamo sicuramente una rete importante che è fatta di amministrazioni, di sindaci, assessori, una rete anche delle nostre sezioni, per cui un tessuto radicato a cui stiamo parlando. Stiamo parlando anche alle imprese, stiamo parlando alle famiglie. Ci sono delle emergenze pesantissime, portiamo le nostre soluzioni. Il prossimo Governo si insedirà in un periodo non facile per il nostro Paese e gli ambiti di intervento in cui il nuovo esecutivo sarà chiamato ad operare sono diversi. Ci sono tanti temi, quelli che attengono la giustizia, che ha tempi inaccettabili. C'è il tema dell'istruzione, della famiglia. Abbiamo un tasso di natalità bassissimo in Italia, dobbiamo riuscire a invertirlo, dobbiamo mettere in condizione le famiglie di non guardare alla crescita delle dimensioni della propria famiglia come un problema.